E ciao a tutti ragazzi sono S-Tube e bentornati in questo nuovo video di FIFA Mobile riguardante all'evento calciomercato Iniziamo subitissimo mentre entro nell'evento io vi ricordo di passare per la descrizione per il gruppo Telegram mio e di Doc La mia pagina Instagram e il mio canale Viola dove ogni tanto streamo Ma iniziamo subitissimo con l'evento Allora noi entriamo nell'evento e come potete vedere c'è la schermata come sempre come giocare che però non la guardiamo Passiamo subito diretti alla principale Allora troviamo 5 probabilità che costano 5 energie a testa 5 energie a testa Poi come sempre abbiamo le pubblicità e i pacchetti con le monete Allora cosa dobbiamo fare in queste probabilità? Noi dobbiamo giocarle e cercare di fare 3 stelle in tutte 3 qua, 3 qua, 3 qua e 3 qua Perché così arriviamo a 15 stelle e ogni giorno facendo 15 stelle avremo 100 maschere in più Quindi facendo tutto questo avremo 375 maschere da queste probabilità Più 100 da qua Che fa? 475 maschere giornaliere Adesso vi lascio anche qua la tabella che potete vedere Dove ci sono dentro le maschere totali e le maschere giornaliere Allora come potete vedere dalla tabella facciamo circa 7200 maschere se facciamo sempre 15 stelle Quindi ogni giorno per 14 giorni su 15 Mentre se non facciamo sempre 15 il massimo che possiamo fare è 5625 Adesso con queste maschere andremo a vedere cosa effettivamente possiamo prendere Noi scorriamo a destra e troviamo le varie regioni che sono Francia, Spagna, Germania, Brasile, resto del mondo e Italia Allora adesso è disbloccato solo la Francia Poi fra 5 giorni si sblocca la Spagna, poi la Germania, il Brasile, il resto del mondo e l'Italia E qui adesso entriamo, faccio un esempio nella Francia Tanto i prezzi sono tutti uguali E quindi qui vediamo che possiamo usare queste maschere che ho preso Che ovviamente io non uso perché sceglierò alla fine su che percorso usarle E come potete aver visto dalla tabella di prima Con 7200 maschere si può effettivamente prendere un 98 di uno dei percorsi che vogliamo Perché il 98 costa 6980 più o meno E quindi in avanza avremo anche circa 200 maschere Ma se noi prendiamo il 98 dopo non possiamo prendere nessun altro premio Però ovviamente c'è per esempio c'abbiamo il 98 Marseille Che è molto molto forte, ve lo consiglio Saint-Maximin è molto molto forte Mentre gli altri francesi sinceramente non mi sono piaciuti tanto A parte Nicone però c'è un brutto pot Quindi in Francia vi consiglio solo Marseille e Saint-Maximin Però non vi consiglio di prenderli dal mercato perché essendo il percorso che si è sbloccato prima Marseille sarà quello che costerà di meno perché chi lo prende lo prende prima Mentre per esempio se andiamo nel percorso Italia a vedere Donna Rumma che è il 98 che è fortissimo sarà sbloccato dopo Adesso c'è Donna Rumma che ragazzi questo consigliatissimo è forte Guardate che statistiche che ha È qualcosa di incredibile è pure alto 1,96 quindi perfetto Poi c'è Giorginio che se fosse CC sarebbe fortissimo Però CDC se vi devo dire la verità non mi piace quindi non ve lo consiglio Bastoni non è malino per essere un 90 E gli altri non ve li consiglio Poi andiamo a vedere gli altri percorsi velocemente dopo però Perché? Perché voi potete scegliere di prendere il 98 e basta Oppure potete scegliere di prendere quest'icona Barnes Che come potete aver visto dalla tabella è free Perché per prendere questa icona bisogna prendere 8 giocatori da queste regioni Quindi prendete sempre i primi e ne avete 6 e poi prendete 2 dei secondi E per questo se non mi ricordo male spendete circa 5000 maschere Quindi ve ne avanzano anche un po' in base se fate sempre 15 stelle o no In ogni caso se devo dirvi la verità questo Barnes non mi piace troppo Non è male se vi serve un esterno con dribbling prendetelo Perché è pure un'icona si sa le icone sono un po' più buggate soprattutto quell'evento Quindi se vi serve prendetelo però Per esempio io non lo prendo perché a parte che non mi serve per il potenziamento Però non mi piace tanto a statistiche Però se voi non volete Barnes e non volete neanche un 98 Ci sono questi 3,96 che uno di loro è free to play Perché sempre dalla tabella come avete potuto aver visto Il 96 costa 2 piume Qua raccoglie 2 piume samba Per raccogliere le piume samba Voi dovete arrivare non a prendere il 98 assolutamente no Ma dovete arrivare all'ultimo step Di 2 percorsi Quindi vi da 2 piume E con 2 piume potete scegliere Ogni Naki Williams ragazzi che è fortissimo Io questo sinceramente ve lo consiglio tantissimo come ATT Ma veramente tantissimo Cioè allora è velocissimo Con il potenziamento a 0 Ha un buon tiro Ha un dribbling molto molto buono E ha 100 di testa e 106 di elevazione Con 1,86 con torre a 0 Quindi ragazzi Naki Williams Se volete fare una coppia Naki Ronaldo O Naki lo tenete da solo O Naki lo mettete a Alo Naki può fare tutto È un carro armato che corre Veramente è incredibile Poi ci abbiamo Verratti Che è molto forte Ma ha un brutto potenziamento Quindi io sinceramente non ve lo consiglio E per ultimo Ma non meno importante C'è Davinson Sanchez Che è molto 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 forte A parer mio Io sinceramente Vi dico che farò un 98 Che molto probabilmente sarà Donnarumma O comunque vedrò Alla fine Tengo le maschere A fine evento Perché magari non arrivo a un 98 Perché un giorno mi dimentico Di completare tutto con tre stelle O non posso per l'energia O cavolate varie In ogni caso Se arrivo Faccio un 98 E guardo a fine evento Quale costa di più da prendere Venderlo Prendermi Sanchez Metterlo in squadra E poi con i crediti avanzati Potenziare un po' la squadra Oppure Ho fatto un Everton Che non è male Sinceramente È uno dei classici veloci Abbastanza forte Comunque per una liga Forse non ce ne sono Di migliori Quindi se avete una liga Potete prenderlo Tranquillamente E poi c'è William Che In questo momento Molto probabilmente È una delle ali destre Più forti del gioco Perché comunque 98 potenziamento a zero C'è il suo 112 di ritmo Potrebbe avere di più Senza ombre di dubbio Però Come sapete già Le ali destre Quest'anno Per adesso Arrancano Quindi lui È molto consigliato Poi ragazzi Ci abbiamo giocatori Il resto del mondo Che ne approfitto Anche per farvi vedere Dove prendiamo La piuma per il 96 Noi continuiamo Nel percorso centrale Non andiamo a Dybala A Pickford A Muriel A nessuno Andiamo qua in fondo E c'è la piuma samba E ne dovete prendere due Comunque Di questo Regione Più che evento C'è Dybala Che è fortissimo Molto molto consigliato Potenziamento È uno dei migliori Se non il migliore Tanto tiro davanti Tanta potenza Tiro Abbastanza veloce Buoni passaggi Ragazzi Lui è molto 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 Consigliato Poi abbiamo Pickford Inguardabile Con il potenziamento Poteva essere Potenzialmente Un buon Buon portiere Ma Ripeto Potenzialmente Bruttissimo Poi abbiamo Muriel Che non è malino Per una serie A Detto sinceramente Poi abbiamo Anche Denier Denier Prendetelo in considerazione Perché Come dici Ligan Non è male Poi c'è di meglio Però Forse Ligan No Quindi attenzione A Denier Poi abbiamo Invece Questo Riccardo Horta Che non mi piace E Gravenberg Che anche lui Non è male Però Il solito discorso È un 88 Dell'RDVC È olandese Tutto Tutto Questo E quell'altro Alla fine Buone statistiche Ma non Non lo metterei Mai in squadra Poi Il girone Italia L'abbiamo già guardato Guardiamo il girone Germania Dove troviamo Di interessante Allora C'è un Serdar Con intercettazioni Che non è male Attenzione Per una Bundesliga È molto buono Poi abbiamo Un Friedrich Che Sì Può essere Buonino Per una Bundesliga Sarebbe da vedere Come il potenziamento Tirato su Poi abbiamo Un bell'Arabi Che è Abbastanza forte Più forte William di lui Ve lo dico Perché comunque C'è anche più tiro Però Sinceramente Se gli serve Una D Bundesliga O una D con velocità Perché avete già L'AS Lui è molto Molto consigliato E poi come il 98 Abbiamo Muller Che come al solito È lento Stesso discorso Di Coutinho Tanto tiro Tanti passaggi Buona agilità È lento È da vedere Se vi trovate bene In game Se vi serve Uno della Bundesliga Un tedesco Insomma Comunque Io non è che Cioè Tra i 98 Non è proprio Il più consigliato Secondo me Poi come ultimo Percorso Abbiamo Quello della Spagna Dove troviamo Pau Torres Che è molto Interessante Attenzione Abbastanza veloce Però sono un 88 Non male Peccato per il potenziamento Però Se vi serve Uno della Liga Finalizzazione Peccato Peccato per il potenziamento Però è comunque Molto Molto forte Allora Abbiamo finito Con la schermata Principale Quindi possiamo Passare a vedere La schermata Sfilata Però Guardiamo Prima Petit Giusto Per sfizio Icona Prime Quindi ragazzi Manca a parlarne Fortissimo Ovviamente E poi vabbè C'è la solita Sfida Creazione rosa Per i gradi Che vi consiglio Sempre di farla Che io Non la faccio mai Allora Nella Schermata Sfilata Ci sono sempre Le offerte Con le monete E da guardare Pubblicità Per le energie E con queste energie Cosa potete fare Giocare Le versus Attacco O giocare Le confronto Non so io Cosa consigliarvi Perché qua È tutta una cosa Personale Da quanto vincete In versus Quanto vincete In confronto La vostra gen Cosa vi piace fare Cioè qua è tutta Una cosa personale Ragazzi Però posso dirvi Che Baggio Questo Roberto Baggio Non è Free to play A meno che O non siate Delle best In confronto E le giocate Sempre tutte Senza mai Perdere un'energia E le vincete Tutte Proprio tutte Dalla prima All'ultima O siete Del best In versus Attacco E le vincete Tutte Dalla prima All'ultima In quel caso Potrebbe Essere Free to play Peccato per il ruolo Quindi comunque Io A parte che Non ho voglia Di giocare In confronto Sono 104 Quindi in versus Attacco Faccio schifo Però è un AT ragazzi Non mi piace Per niente Parliamoci chiaro Gli AT in questo gioco Sono inutili Però Potete anche avere Un aiuto Perché Ogni giorno Noi quando entriamo Prendiamo 10 confetti Tra un attimo Andiamo a vedere Dove ci servono Questi 10 confetti E voi vi chiederete Se io gioco Le versus Attacco Le confronto Mi dai Punti festa Ma io cosa Me ne faccio Di questi Punti festa Perché comunque Per il percorso Di baggio Io non devo Usare Punti festa Ma i punti Sfilata Ed ecco qua Come potete Vedere qui Quando arrivate A 50 Punti festa Vi fa entrare In classifica Che io adesso Non posso vedere Però Come potete vedere Se voi per esempio Arrivate a premi Per il primo Che adesso Non so quanti punti Festa sia Perché io Non sono qualificato Però facciamo finta Che il primo È a 500 punti Tra 34 ore Quando scade Il primo Sempre a 500 punti Ovviamente È un'ipotesi Se voi raggiungete Quel primo A 500 punti Vi darà 250 punti Sfilata Più Quest'85 Che non è forte E è qui Che prendete Punti sfilata Perché nel gruppo Telegram In tanti mi hanno chiesto Ma dove prendo I punti sfilata Li prendo proprio qua Ogni due giorni Li danno Perché ogni due giorni A classifica Si resetta Poi con quei punti Sfilata Appunto Vi fate questo percorso Dove i giocatori Per me Non sono forti Però è buono Questo percorso Solamente per i gradi Un po' Gli XP E le monete Che sono comunque Due milioncini di monete Io non me le periverei Comunque io vi consiglio Di ogni tanto Se non volete Proprio nerdarci a questo Di farle ogni tanto Così Comunque Questo era Questa O meglio Era la schermata O meglio Le schermate Dell'evento Poi ovviamente C'è il negozio Come tutti gli eventi Dove Troviamo A 11 euro Un 85 Quindi Da lasciare perdere 1000 punti maschera 50 sfilata Quindi sono buoni 3 punti cappello Una piuma samba E 2 punti tamburo Vi faccio vedere adesso Dove si usano I punti cappello E tamburo Prima di farvi vedere Il negozio O meglio dopo Scusate Poi con 2 euro e 29 C'è la solita cosa Che potete provare A prendere un 89 Ma non ve lo consiglio Quello che vi consiglio Se proprio volete shoppare È questo pacchetto Di 22 euro Di Viera Perché vi dà Viera Ragazzi è incredibile Guardate quanto è forte Questo Viera In più vi dà 1800 maschere Che sono Tante In più 125 punti sfilata Che sono Tanti E 2000 punti VIP Che fanno sempre comodo Quindi se volete shoppare Io vi consiglio quello Mentre questo Di 55 euro Se devo dire la verità Io lo lascerei Un po' perdere Perché Puyol È forte Ma è basso Per esempio Un Blanc Potrebbe essere più forte Un Sanchez Comunque da vedere Poi vi dà 3000 punti maschera Che per 23 euro Sono neanche Sono Neanche il doppio Scusate Di quelli che vi dà Viera E 500 punti Sfilata Che sono molti Però Se proprio Volete shoppare E non siete Di quelli shopponi Che comprano Le icone prime E tutto Io vi consiglio 22 euro Se ovviamente Siete quelli Che comprano Le icone prime Ragazzi Non penso sia Un problema Anche 55 euro Così Ma quelli Ovviamente Di quelli che mi guardano Penso sia una piccolissima parte Se c'è qualcuno Comunque Quei 10 confetti Che ci danno ogni giorno Noi li possiamo usare qui Coriandri Scusate L'ho chiamato i confetti Noi Lo apriamo Io l'ho già aperto Purtroppo E possiamo trovare Da 100 A 200 maschere Molto buone Da 25 A 50 punti Sfilata Molto buoni E poi punti Cappello O la piuma samba O il tamburo O ancora Dei coriandoli Ma dove usiamo I punti Cappello La piuma samba E i punti Tamburo Perché comunque Se trovate una piuma samba Lì sappiate Che non arrivate a uno Qua Perché Qua vuole Le piume samba Prese dai percorsi Comunque Quei punti Che vi dicevo Li potete usare Qua sotto Per aiutarvi A dare dei punti festa Per esempio Io ho trovato prima Due tamburi E ogni Giorno Perché come potete vedere 24 ore Potete prenderne uno O uno di questi In base ai punti che trovate Così vi aiuta qua Nella classifica Comunque ragazzi L'evento era questo Vi do l'ultima dritta Queste probabilità Intanto sul gruppo telegram Mi ha chiesto Come faccio a completare La fiesta carneval calcio La fiesta carneval calcio Ragazzi La completate Concentrandovi E controllando Gli spazi Perché adesso Non posso farvelo vedere Ma gli spazi Tra le zone rosse Voi ci passate In mezzo O passate quando Sono piccole E dovete andare Il più veloce Possibili Io l'unico Consiglio Che posso darvi È questo E dirvi Di concentrarvi In tutte E impegnarvi Per fare tre stelle Il prima possibile Per cercare Di non perdere energia E inoltre Usare questi Pacchetti Con le monete Perché io Per esempio Avevo completato Tutto Ma con otto stelle Ho usato Questi pacchetti Con le monete Ne ho usati solo due E ho completato tutto A tre stelle Mi sono preso De 100 maschere E cercherò Di fare così Così Da arrivare al 98 Come già detto ragazzi Io non so Che 98 prenderò Non so cosa farò So solo Che mi terrò Le maschere Fino a più o meno Finevento Vedrò un po' i prezzi Vedrò quante maschere avrò E tutto Prima di lasciarvi Io vi rimetto la tabella In caso siete arrivati Fin qua E vi siete dimenticati Di fare lo screen Ve la lascio qua Un attimo Screenatela O entrate nel gruppo Telegram Per averla Detto questo Da EzioTube È tutto Noi ci possiamo trovare Nel prossimo video Che sarà Di Fortnite Insieme al mitico Fire Games Noi ci becchiamo Appunto In questo prossimo video Bella